Orazioni di Santa Brigida per un anno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prima orazione. Signore Gesù Cristo, eterna dolcezza di coloro che ti amano, felicità che sorpassa ogni gioia ed ogni desiderio, salvezza di coloro che si pentono, ai quali hai detto, le mie delizie sono con i figli degli uomini. Poiché ti sei fatto uomo per la loro salvezza, ricordati dell'amore che ti ha spinto ad assumere la nostra natura umana e di tutto quello che hai sopportato dall'inizio della tua incarnazione fino al momento della tua passione, a compimento del disegno di Dio, stabilito fin dall'eternità. Ricordati del dolore che hai sofferto nella tua anima quando hai detto, la mia anima è triste fino alla morte e, quando durante l'ultima cena, hai dato ai tuoi discepoli il tuo corpo come cibo e il tuo sangue come bevanda. Hai lavato i loro piedi e li hai consolati amorevolmente, predicendo la tua passione ormai vicina. Ricordati del timore, dell'angoscia e del dolore che hai sopportato nel tuo santissimo corpo prima di salire sul legno della croce, quando dopo aver pregato per tre volte il padre sudando sangue ti sei visto tradito da uno dei tuoi discepoli, arrestato dal tuo popolo eletto, accusato da falsi testimoni e ingiustamente condannato a morte da tre giudici. Nel solenne tempo della Pasqua sei stato tradito, deriso, spogliato dei tuoi vestiti, vendato e schiaffeggiato, legato alla colonna, flagellato e coronato di spine. In memoria di queste tue sofferenze ti prego di concedermi, dolcissimo Gesù, prima della mia morte, il vero pentimento, una sincera confessione e la remissione di tutti i miei peccati. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore, Gesù figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, re del cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indure in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Seconda orazione. Gesù, vera gioia degli angeli e paradiso di delizie, ricordati degli orribili tormenti che hai provocato quando i tuoi nemici, come leoni feroci, ti hanno circondato e colpendoti con schiaffi, sputi, graffi ed altri cudeli supplizi, ti hanno lacerato. Per le parole offensive, le violente percosse e i durissimi tormenti con i quali i tuoi nemici ti hanno fatto soffrire, ti supplico, liberami dai miei nemici, sia visibili che invisibili, e concedimi di ritrovare all'ombra delle tue ali la protezione della salvezza eterna. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatori. Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, re del cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terza orazione. Verbo incarnato, creatore onnipotente del mondo, tu che sei infinito, incomprensibile e puoi racchiudere l'universo intero nel palmo della tua mano. Ricordati dell'amarissimo dolore che hai sopportato quando le tue santissime mani e i tuoi santissimi piedi sono stati inchiodati al legno della croce. Quale dolore hai provato, Gesù, quando i tuoi crocifissori hanno dilaniato le tue membra e slogato le tue ossa, tirando il tuo corpo per ogni verso al loro piacere. Per la memoria di questi dolori da te sopportati sulla croce, ti prego di concedermi di amarti e di nutrire il giusto timore di Dio. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore, Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, re del cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Quarta orazione. Gesù, Medico Celeste, ricordati delle sofferenze e dei dolori che hai provato nel tuo corpo, già ferito e dolorante, mentre si levava in alto la croce. Dalla testa ai piedi eri tutto un accumulo di dolore e tuttavia ti sei dimenticato di tanta sofferenza e hai offerto pietosamente al Padre preghiere per i tuoi nemici, dicendo, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Per questa smisurata carità e misericordia e per la memoria di questi dolori, concedimi di ricordare la tua amatissima passione, affinché essa mi giovi per una piena remissione di tutti i miei peccati. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del Cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Quinta orazione. Gesù, specchio di eterna chiarezza, ricordati dell'afflizione che hai provato quando, prevedendo la salvezza degli eletti mediante la tua passione, hai visto anche molti non avrebbero accolta. Per la profondità della misericordia che hai dimostrato non solo nel provare dolore dei perduti e dei disperati, ma anche verso il ladrone, quando gli hai detto, oggi sarai con me nel paradiso, ti chiedo, pietoso Gesù, di riversarla sopra di me nell'ora della mia morte. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, re del cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indure in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sesta orazione. Gesù, Re amabile, ricordati del dolore che hai provato, quando nudo e disprezzato, pendevi dalla croce, senza avere, fra tanti amici e conoscenti che ti erano accanto, chi ti consolasse, eccetto la tua diletta madre. A lei hai raccomandato il tuo discepolo prediletto, dicendo, donna, ecco il tuo figlio, e al discepolo ecco la tua madre. Per la spada di dolore che le ha trapassato l'anima, pietosissimo Gesù fiducioso, ti prego, di aver compassione di me in ogni afflizione e tribolazione, sia fisica che spirituale, e di consolarmi, porgendomi aiuto, e gioia in ogni prova e avversità. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, re del cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte, Amen. L'ori al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Settima orazione. Signore Gesù Cristo, fonte di dolcezza senza fine, che mosso da un amore immenso. Quando eri in croce hai detto, ho sete, cioè desidero sommamente la salvezza del genere umano. Ti preghiamo di accendere in noi il desiderio di operare santamente, spegnendo del tutto la sete dei nostri desideri peccaminosi e la ricerca dei piaceri del mondo. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, re del cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indore in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ottava orazione. Signore Gesù Cristo, dolcezza dei cuori e sua vita grandissima dello Spirito, per l'amarezza dell'aceto e del fiele che hai bevuto per amore nostro sulla croce, concedi a noi, peccatori, di cibarci degnamente del tuo corpo e del tuo sangue, rimedio e consolazione delle nostre anime, per tutta la vita e specialmente nell'ora della morte. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore, Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del Cielo, abipita di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre nei secoli di secoli. Amen. Nona orazione. Signore Gesù Cristo, gioia della mente, ricordati dell'angoscia e del dolore che hai provato quando, per l'amarezza della morte e l'insulto dei giudei, gridasti al Padre tuo, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato. Per questo ti chiedo, mio Signore e mio Dio, di non abbandonarmi nell'ora della mia morte. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, re del cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Decima orazione. Signore Gesù Cristo, principio e termine ultimo del nostro amore, dalla pianta dei piedi alla cima del capo, ti sei completamente immerso nel mare delle sofferenze. Per le tue larghe e profondissime piaghe, ti prego di insegnarmi ad operare santamente, con vera carità e seguendo la tua legge e i tuoi precetti. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, re del cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Undicesima orazione. Signore Gesù Cristo, abisso profondo di pietà e di misericordia, per la profondità delle piaghe che trapassarono non solo la tua carne e le midulla delle ossa, ma anche le più intime viscere. Ti domando di sollevarmi dai peccati e nascondermi nelle aperture delle tue ferite. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del Cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ad esse, nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dodicesima orazione Signore Gesù Cristo, specchio di verità, segno di unità e legame di carità, ricorda le innumerevoli ferite di cui è stato ricoperto il tuo corpo, lacerato e imporporato del tuo stesso preziosissimo sangue. Ti prego, con quello stesso sangue, scrivi nel mio cuore le tue ferite, affinché, nella meditazione del tuo dolore e del tuo amore, ogni giorno si rinnovi in me il dolore del tuo soffrire. Ciò accresca in me l'amore e la continua perseveranza nel renderti grazie, sino alla fine della mia vita, quando, pieno di tutti i beni e di tutti i meriti, che ti sei degnato donarmi del tesoro della tua passione, verrò da te. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore, Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del Cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. L'ori al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Tredicesima orazione Signore Gesù Cristo, Re invincibile e immortale, ricordati del dolore che hai provato, quando venute meno tutte le forze del tuo corpo e del tuo cuore, chinando al capo hai detto, tutto è compiuto. Per tale angoscia e dolore, ti prego di avere misericordia di me, nell'ultima ora della mia vita, quando la mia anima sarà turbata dall'ansia dell'agonia. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del Cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri libidi, come noi li rimettiamo ai nostri libitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'ore al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Quattordicesima orazione. Signore Gesù Cristo, unigenito del Padre Altissimo, splendore immagine della sua sostanza, ricordati dell'umile preghiera con la quale hai raccomandato il tuo Spirito, dicendo, Padre, nelle tue mani consegno il mio Spirito e, dopo aver chinato il capo, e aperte le viscere della misericordia per riscattarci, gridando, hai emesso l'ultimo respiro. Per questa preziosissima morte ti prego, Re dei Santi, dammi la forza di resistere alle tentazioni del diavolo, del mondo e della carne, affinché morto al mondo viva solo in te e nell'ultima ora della mia vita. Tu riceverai il mio Spirito che, dopo lungo esilio e pellegrinaggio, desidera ritornare alla sua patria. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore, Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del Cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, è il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, era sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quindicesima orazione Signore Gesù Cristo, vera e feconda vita, ricordati dell'abbondante fusione del tuo sangue quando chinato il capo sulla croce, il soldato ti ha squarciato il costato da cui sono uscite le ultime gocce di sangue ed acqua. Per la tua amarissima passione ti prego, dolcissimo Gesù, ferisci il mio cuore affinché giorno e notte io versi lacrime di penitenza e di amore. Convertimi totalmente a te perché il mio cuore sia a tua stabile abitazione, la mia conversione ti sia gradita ed il termine della mia vita sia così lodevole da meritare di lodarti in eterno insieme con tutti i santi. Amen. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, peccatore, Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine, per la nostra salvezza crocifisso, Re del cielo, abbi pietà di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto al frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, accetta questa preghiera con lo stesso immenso amore con il quale hai sopportato tutte le piaghe del tuo santissimo corpo. Abbi misericordia di noi ed a tutti i fedeli, vivi e defunti, concedi la tua misericordia, la tua grazia, la remissione di tutte le colpe e le pene e la vita eterna. Amen.